Una mattinata, una domenica mattina davvero molto intensa, lei ha presentato quella che sarà la squadra di terra da mare, la lista nella quale lei è candidato e che sostiene la candidatura di Francesco Del Deo. Francesco Del Deo ha ribadito nel suo discorso che si punta alla vittoria diretta, nessun ballottaggio? Sì, credo che anche stamattina la presenza numerosa della gente, la cittadinanza foriana dimostra che questa coalizione è forte, è una rappresentanza importante della società civile, c'è un mix di esperienza e di freschezza anche nella nostra lista che io ho avuto l'onore di presentare stamattina. Credo che ci siano tutti i presupposti per tranquillamente avere un buon successo elettorale.